Dopo l'esordio, domenica scorsa nella chiesa di Sant'Omaso Cantauriense, torna anche questa domenica, questa volta nella chiesa di Santa Maria in organo, l'esperienza della Messa Internazionale, iniziativa promossa e sostenuta dalla Diocesi di Verona, che vede l'organizzazione di Verona Minori Jerusalem, grazie al contributo di Banco BPM, Cattolica Assicurazioni e, in riferimento al Bando Valore Territori, della Fondazione Cari Verona, in questo caso anche con il Paternariato del Conservatorio Felice dall'Abaco di Verona. Questo è il quinto progetto degli undici, dove Verona Minori darà un contributo e una ricaduta territoriale, grazie ai volontari, che sono i cittadini, che stanno valorizzando questo patrimonio e creando una bellissima rete e sinergia con la città. Ogni volta coinvolgiamo un ente, un'istituzione e abbiamo una finalità diversa. Questa volta è prevista la Messa per gli italiani, ma anche in altre lingue, c'è il francese, il tedesco, lo spagnolo e l'inglese ovviamente e i volontari si impegnano, quelli in madrelingua e bilingua, a tradurre in simultanea e ogni turista al suo auricolare sente in diretta tutta la Messa nella sua lingua. Però è bello anche rispondere tutti insieme, quindi ogni domenica scegliamo una lingua prevalente. Domenica scorsa è stato il latino, domenica prossima sarà l'inglese, poi il tedesco e coralmente ripeteremo tutti i versetti nella lingua prescelta. È bello perché abbiamo cercato di valorizzare anche la storia della musica. La Veronamino si caratterizza per questa formazione interdisciplinare e quindi non è solo l'evento in sé, è tutta la preparazione che diamo sia ai nostri volontari che alla città per vivere al meglio ogni evento che organizziamo. Anche l'appuntamento di domenica prevede la Messa alle 11.15, a cui seguirà il concerto post Missam alle 12 con l'esecuzione del Maria Magdalene, Mottetto a quattro voci di Gabrielli, la Bergamasca per solo organo di Frescobaldi, Cum Sancto Spirito per Ottoni di Mendelssohn ed il Mottetto a cinque voci sul Rexit Pastor Bonus. E il prossimo appuntamento, il prossimo progetto che avete in serbo? Cambiamo completamente argomento. Si passerà agli animali e piante nella Bibbia, ma l'animale e la pianta, visto appunto il progetto, come dicevo, guarda una sostenibilità non solo economica, perché è una start-up, ma anche ambientale e sociale, valorizzeremo la salvaguardia ambientale. Quindi in sinergia con la guardia forestale, che adesso è passata sotto i carabinieri, valorizzeremo la protezione degli animali e delle piante nella nostra città. Poi c'è Parco Natura Viva, invece, che si dedica più alla conservazione di questi animali, anche alla salvaguardia, anche a un certo senso educativo, quindi segue le scuole, prepara i ragazzi. Sarà un evento per bambini, per famiglie, l'ultimo giorno di scuola, l'abbiamo pensato, quindi prima che le famiglie vadano al mare o in vacanza, tra arte e spirito, ma anche la natura. Grazie. Grazie.